Martedì 3 novembre negli Stati Uniti ci saranno le votazioni per eleggere il presidente americano. Cerchiamo di capire come funzionano queste elezioni e facciamo anche un confronto con l'ordinamento del nostro paese. Prima di entrare nello specifico però dobbiamo conoscere l'ordinamento politico statunitense perché il sistema elettorale americano è un po' complesso. Allora, intanto, gli Stati Uniti d'America sono una repubblica presidenziale federale composta da 50 stati e da un distretto. Cosa significa questo? Significa che presidenziale significa che il presidente degli Stati Uniti è sia il capo dello Stato che il capo del governo. Poi vedremo bene insieme la differenza tra queste due funzioni. E poi l'altra parola che ho evidenziato è federale. Cioè, gli Stati Uniti sono uno Stato unico ma suddiviso in unità più piccole. Ciascuna di queste unità è uno Stato a sé, che ha un proprio Parlamento, ha un proprio governatore, ha dei rappresentanti del popolo. Quindi è anche in grado, con molta autonomia, di decidere delle leggi che valgono solo all'interno del proprio Stato. Ma contemporaneamente tutte queste unità più piccole, cioè tutti questi Stati, fanno parte di uno Stato unico, più grande. In uno Stato democratico i poteri sono tre. Il potere legislativo, che è il potere di fare le leggi. Il potere esecutivo, che è il potere di renderle attuabili e di farle rispettare. E poi il potere giudiziario, che si occupa di giudicare chi ha trasgredito le leggi dello Stato. In Italia il potere legislativo viene svolto dal Parlamento. Il potere esecutivo è esercitato dal governo e il potere giudiziario dalla magistratura. Il presidente degli Stati Uniti non è solo il capo dello Stato. A livello federale esercita anche il potere esecutivo. Invece, in Italia, il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio sono due figure diverse. Il presidente del Consiglio è capo del governo, quindi il governo è quello che esercita il potere esecutivo. Il presidente della Repubblica ha delle funzioni completamente diverse. Invece, negli Stati Uniti, queste due figure sono entrambe nelle mani del presidente degli Stati Uniti. Vediamo in Italia quello che succede. Intanto, questo è uno dei simboli della Repubblica italiana, se hai bisogno di conoscere delle informazioni, di cercare delle informazioni che riguardano l'ordinamento statale e politico dell'Italia, ricorda sempre di andare sui siti giusti, quindi non andare sul primo che ti capita. Ci sono dei siti istituzionali, uno di questi è ad esempio parlamento.it. Se apri questa pagina, ti trovi nel sito del Parlamento italiano e qui puoi trovare tutte le informazioni che ti servono. Il Parlamento è formato da la Camera dei Deputati e un Senato. Queste due Camere insieme formano il Parlamento. Anche negli Stati Uniti c'è un Parlamento, che però si chiama Congresso. Anche il Congresso è formato da due Camere, la Camera dei Rappresentanti e un Senato. Qual è la differenza? Di cosa si occupa il Congresso? Il Congresso decide le leggi federali. Allora, facciamo un passettino indietro. Abbiamo visto prima che gli Stati Uniti d'America sono un unico Stato federale, però, cioè formato dall'unione di tanti piccoli Stati diversi. Questi Stati, però, si riconoscono in un unico grande Stato, che sono appunto gli Stati Uniti. Ci sono delle leggi che valgono per tutti gli Stati, altrimenti lo Stato non potrebbe funzionare. Ad esempio, la difesa militare. Pensate se ogni Stato avesse un proprio esercito. Non sarebbe possibile. Oppure, la moneta. Tutti gli Stati degli Stati Uniti d'America usano il dollaro. Oppure, i rapporti commerciali, sia tra i diversi Stati, ma soprattutto con l'estero. E infine, le tasse. Ci sono delle tasse che devono essere pagate da tutti e che servono al mantenimento dello Stato. Quindi il Congresso, a differenza degli organismi più piccoli che ci sono all'interno degli Stati, si occupa delle leggi federali, cioè di quelle leggi che valgono per tutto lo Stato, per lo Stato intero. C'è un'altra cosa che può fare il Congresso, nei confronti proprio del Presidente. L'impeachment, che in italiano è la messa in Stato d'accusa, che è una garanzia molto importante in uno Stato democratico. Perché? Perché permette al Congresso di rinviare a giudizio funzionari molto importanti, addirittura perfino il Presidente, nel caso in cui si ritenga che queste persone abbiano commesso dei reati molto importanti. Quindi il Congresso può mettere in Stato d'accusa, quindi rinviare a giudizio, il Presidente degli Stati Uniti. I Presidenti degli Stati Uniti vengono eletti ogni quattro anni. Questi sono stati gli ultimi due. Nel 2012 Barack Obama, nel 2016 è stato eletto Trump, e adesso gli americani sono chiamati ad eleggere il prossimo Presidente. Come funzionano le elezioni? Cercherò di semplificare il discorso, perché le elezioni americane hanno un'organizzazione unica, che funziona così solo negli Stati Uniti, e non è semplicissima. I cittadini americani che cosa dovranno fare? Dovranno andare a eleggere o il candidato democratico o il candidato repubblicano. Ogni Stato ha dei grandi elettori, che sono le persone che i cittadini americani martedì andranno a scegliere. Perché abbiamo detto che non sono i cittadini che votano direttamente il Presidente, i cittadini votano i propri grandi elettori. Ogni Stato ha un numero stabilito di grandi elettori, diversi tra loro, perché dipende dal numero di persone che abitano in quello Stato, quindi c'è una proporzione. Bene, questi grandi elettori che cosa fanno? Si impegnano nei confronti dei loro cittadini a sostenere il candidato che avrà vinto la votazione di martedì. Quindi facciamo un esempio. In Texas ci sono 38 grandi elettori. Martedì i cittadini del Texas andranno a scegliere il candidato. Se vincerà, cioè se otterrà anche un solo voto in più il candidato repubblicano, i grandi elettori del Texas, tutti e 38, sosterranno il candidato repubblicano. Se invece otterrà più preferenze il candidato democratico, i grandi elettori del Texas, tutti e 38, sosterranno il candidato democratico. Alla fine, siccome in totale i grandi elettori americani sono 538, vincerà queste elezioni il candidato che avrà ottenuto 270 voti. Quindi, non è come siamo abituati a ragionare noi, che si contano i voti singoli e vince chi ne prende di più. In realtà, si contano i voti dei grandi elettori. Quindi, sentirai anche nelle notizie, al telegiornale, eccetera, si sente dire il tal candidato è riuscito a conquistare questo Stato, quell'altro Stato. Perché? Perché alla fine vale il voto dei grandi elettori di quello Stato. Quindi, il candidato che ottiene la maggioranza dei voti, si prende tutti i grandi elettori di quello Stato. Tanto per farti capire meglio, questa immagine riproduce il risultato Stato per Stato delle elezioni che sono state fatte nel 2016. All'epoca, i due candidati erano Hillary Clinton per il Partito Democratico e Trump per il Partito Repubblicano. All'interno di ogni Stato c'è un numero che rappresenta il numero dei grandi elettori. Allora, ecco perché si parla di vittoria Stato per Stato. Perché poi, in realtà, si va a contare il numero degli Stati. Vince il candidato che ha conquistato il maggior numero di Stati. Quindi, è il singolo Stato che conta, i voti dei cittadini, che sono chiamati voti popolari, si contano Stato per Stato e non a livello nazionale. Colui che vince anche di un solo voto in uno Stato si prende tutti i grandi elettori in paglio in quello Stato. Poi c'è un'altra caratteristica di queste votazioni. Questa è la riproduzione di una scheda elettorale. Quando un cittadino sceglie il nome del Presidente, automaticamente sceglie anche quello del suo Vice. Ad esempio, nelle due elezioni fa, questo era il candidato del Partito Democratico e sulla scheda elettorale, vedi, c'è anche abbinato il nome del suo Vice Presidente. Questo era il candidato del Partito Repubblicano e votando, vedi che c'è soltanto una possibilità di voto, automaticamente viene abbinato anche il suo Vice Presidente. Cosa bisogna fare per potersi presentare e diventare Presidente degli Stati Uniti? Ma i requisiti previsti dalla Costituzione americana sono sostanzialmente tre. Bisogna avere almeno 35 anni d'età, bisogna essere cittadino americano per nascita, quindi non esserlo diventato in un secondo momento, e risiedere negli Stati Uniti da almeno 14 anni. Il giorno delle elezioni, che viene chiamata Election Day, di quest'anno è in programma per martedì 3 novembre. La tradizione americana, fin dalle sue origini, prevede che le elezioni del Presidente si tengano il martedì successivo al primo lunedì di novembre. Per noi in Italia è una cosa abbastanza strana sentire un'elezione di martedì, noi siamo abituati a votare il sabato e la domenica, ma c'è un motivo che era un motivo molto ovvio e molto chiaro agli inizi della storia repubblicana americana. Infatti, nell'Ottocento, quando si tennero le prime elezioni degli Stati Uniti, si scelse il mese di novembre perché in quel periodo la vita delle persone era scandita dal lavoro dei campi e novembre era il mese in cui era stato appena fatto il raccolto autunnale. Perché il martedì e non la domenica? Beh, perché la maggior parte degli americani erano cristiani e di domenica c'era il riposo settimanale, si andava a messa, si stava con la famiglia. Un altro giorno che non sarebbe stato mai scelto era ad esempio il mercoledì, che tradizionalmente era il giorno di mercato e quindi insomma non si poteva perdere una giornata così importante di lavoro. Quindi si trattò di scegliere una giornata e l'Election Day venne deciso che si sarebbe tenuto il martedì successivo al primo lunedì di novembre. In questo modo si sarebbe anche evitato di finire in coincidenza con la festa di ogni santi. Riassumiamo quindi un attimo. Il presidente americano deve avere almeno 35 anni, viene eletto da un'assemblea di grandi elettori, quindi non direttamente dai cittadini, resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo una seconda volta e non di più. In caso di morte prende il suo posto il vicepresidente fino alla fine del suo mandato, ecco perché nella votazione si votano entrambi. non può sciogliere il congresso quindi non può sciogliere il Parlamento americano e contemporaneamente sia capo dello Stato che capo del governo nomina i giudici della Corte Suprema che sono l'organo di giustizia più importante negli Stati Uniti e quando ha finito di fare il presidente torna ad essere un privato cittadino, cioè un cittadino come tutti gli altri. E il presidente della Repubblica Italiano? Da noi le cose sono decisamente diverse. Intanto troviamo nella Costituzione tutte le indicazioni che ci servono. Anche qui, se vuoi avere delle notizie sul presidente della Repubblica il sito più sicuro è proprio il sito del Quirinale. Aprendo questa pagina trovi tutto quello che ti serve vedi anche in lingue diverse che riguarda la Costituzione e il presidente. Gli articoli della Costituzione italiana che regolano le funzioni del presidente io ovviamente ho preso soltanto alcune parti le più importanti sono questi. Nell'articolo 83 viene spiegato che il presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune. Ti ricordi prima abbiamo detto che il Parlamento è formato da due Camere quella dei deputati e il Senato. Per eleggere il presidente della Repubblica occorre che le due Camere si riuniscano contemporaneamente. Vedi che il presidente della Repubblica non è eletto dai cittadini neanche in modo indiretto. Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto 50 anni d'età a differenza del presidente americano che deve averne 35 e ovviamente deve essere una persona che gode dei diritti civili e politici diritti che vengono tolti solo in caso di gravi reati. Il presidente della Repubblica è eletto per sette anni mentre abbiamo visto il presidente americano 4 e il presidente della Repubblica può sciogliere le Camere e indire nuove elezioni cosa che invece abbiamo visto il presidente americano non può fare. Poi c'è l'articolo 87 che riassume le funzioni del presidente vediamo le più importanti. Il presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Quando cioè tu vedi il presidente in qualche cerimonia in qualche manifestazione parlare con altri capi di Stato fare un viaggio all'estero o ricevere al Quirinale altri capi di Stato in quel momento sta rappresentando tutta l'Italia tutti i cittadini italiani. È lui che indice delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione quindi le elezioni vengono fissate dal presidente della Repubblica. Promulga le leggi ed emana i decreti. Abbiamo detto che il potere legislativo è in mano al Parlamento il Parlamento discute vota una legge la approva ma poi questa legge deve avere la firma del presidente della Repubblica. Indice il referendum popolare ovviamente sempre seguendo i casi che sono previsti dalla Costituzione. Riceve rappresentanti diplomatici ratifica i trattati internazionali perché ovviamente se rappresenta lo Stato italiano è lui che è in grado di svolgere queste funzioni. E poi ha il comando delle forze armate cioè dell'esercito italiano presiede il Consiglio Supremo di difesa costituito secondo la legge e in caso di necessità dichiara lo Stato di guerra dopo che ovviamente è stato deliberato dal Parlamento. Infine presiede il Consiglio Superiore della Magistratura cioè lui ne è il presidente. Il Consiglio Superiore della Magistratura è l'organo più importante della Magistratura. Attualmente il nostro presidente della Repubblica è Sergio Mattarella che è stato eletto come dodicesimo presidente il 31 gennaio del 2015. La residenza ufficiale del presidente della Repubblica è a Roma ovviamente perché Roma è la capitale nel Palazzo del Quirinale. Quindi riassumiamo adesso le funzioni del presidente italiano. Abbiamo detto che deve avere almeno 50 anni che viene eletto dal Parlamento resta in carica 7 anni non ci sono limiti alla sua rielezione. È raro che un presidente della Repubblica venga eletto due volte però in Italia è successo col presidente napolitano. In caso di morte o di dimissione il Parlamento elegge un nuovo presidente. Questa è un'altra differenza con la Costituzione americana. Può sciogliere il Parlamento o anche una sola delle Camere è capo dello Stato e nomina il capo del governo quindi dopo che sono state fatte le elezioni è lui che sceglie il rappresentante del partito che ha vinto le elezioni per affidargli di formare il nuovo governo. Nomina 5 dei 15 giudici della Corte Costituzionale anche questo vedi è una cosa diversa rispetto al presidente americano che li nomina tutti e 9 e al termine del suo mandato non torna ad essere un cittadino come gli altri ma se vuole certo può anche rifiutarsi se lo accetta diventa senatore a vita quindi entra a far parte del Parlamento di un